Musica Adesso siamo ancora in piena fase di salita, nella piena, sta cominciando ad arrivare ora, insomma avremo per un altro paio d'ore, vediamo. Il territorio comunale abbiamo avuto situazioni affrontabili, qualche interrato ha sofferto qualche piccolissimo allagamento di qualche strada però senza particolari conseguenze. La situazione che preoccupa di più è questa, i provvedimenti che abbiamo preso finora, sospensione delle attività sportive, chiusura delle scuole, interdizione del passaggio, ad esempio qui in via Barche, al momento sono sufficienti. Grazie. 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 Grazie.